Emiliano Pires è il portavoce di un singolare appello ai colleghi commercianti, di che cosa si tratta? Domani alle 12.40 ci sarà l'arrivo del nuovo treno che collegherà Sassere Alghero. All'interno di quel treno ci sarà l'assessore Dejana e il suo codazzo. Quindi io faccio un appello a tutti i miei colleghi commercianti, a tutti coloro che possiedono un'attività, una partita IVA, di fare una serratta da mezzogiorno e mezzo per andare a protestare alla stazione della pietraia di Alghero contro le decisioni dell'assessore regionale dei trasporti Dejana nei confronti del nostro sistema aeroportuale. Delle decisioni che stanno mortificando l'economia del nostro territorio e che precludono il futuro della nostra vita.